il mio desiderio di non dormire si avvera biologicamente e a letto nel buio rimango ad occhi sbaraccati e poi scrivo, scrivo tanto. Mi dispiace che parta, non potrò più disturbarla a fine lezione con le mie domande. Le invierò dei libri. Posso farle leggere delle poesie? Ah, lei scrive poesie? Sì. Gentile professor Banffi, come le avevo proposto ecco in questi pochi fogli una raccolta di versi che ho scritto qualche tempo fa. Antonia, vieni qui! Spero di poter conoscere presto la sua opinione e la saluto cordialmente, Antonia Pozzi. Non ti preoccupare di me, hai tante cose di te a cui pensare. quel desiderio di sentirsi libero dalla maledizione della conoscenza e dal tormento creativo. Ti devo raccontare un sogno.